Come sapete ci sono stati dei problemi per quanto riguarda l'assegnazione di contributi finanziati col Fondo Sociale Europeo e su indicazione anche della Commissione Europea competente abbiamo adesso ristrutturato i nostri uffici innanzitutto separando la funzione di controllo da quella amministrativa cioè gli impiegati che hanno funzione di controllo non si occupano d'ora in poi solo del controllo così è garantita anche la piena neutralità e oggettività di chi svolge questa funzione.